La mia è guerresco Dove vieni? Vengo da Cortina però mi alleno ai tennis comunali Vicenza Quanto si viaggia anche alla vostra età dal punto di vista del tennis? Allora dipende anche da che livello sei però se sei a livelli alti si viaggia molto soprattutto in Europa Qual è il posto più bello che hai visto? Direi l'Accademia di Nadal Direi l'Accademia di Nadal